La Pasqua celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta secondo le confessioni cristiane nel terzo giorno della sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. La data della Pasqua è anche il giorno della risurrezione dei Rimini Calcio. Se Gesù, alias Giorgio Grassi, era stato messo in croce dal popolo bianco-rosso, il suo salvatore Mario Petrone indovina la formazione vincente, risuscitando al centro del campo variola dal primo minuto, che non si vedeva forse dall'epoca di Pappagone. La vittima sacrificale, chiamata Agnello, lo fa la San Benedettese di turno, che nel nuovo pasquale, secondo i maligni, regala tre punti a Rimini, che invece risponde presente, sfornando una prestazione all'insegna di cuore e determinazione. Se il magazine dello stesso club, in copertina, chiedeva di collegare cervello e cuore per la riuscita dell'impresa salvezza, mai Pasqua più gradita. La partita si accende già al terzo, quando Russotto, un passato tra le file di Treviso e Napoli, davanti a Scotti, dopo un mancato appuntamento con la sfera da parte di Brighi, opta per l'assoluzione di Paloretto, che si perde alta. Ma dalla bandierina, Rimini non perdona. Candido recita la Santa Messa, e come da copione puntuale, sui suoi calci da fermo, sale in cielo Nostradamus Ferrani, che trova il quarto cento in stagione di testa, risultando ancora una volta decisivo ai piani del risultato. Vice capo canonieri in stagione, di tra solo Volpe, è una curiosità, tutti e quattro i suoi gol hanno portato 12 punti alla squadra. La San Benedettese, anche se di gemellaggio si tratta, tra trifoseria non ci sta, e la discesa di Russotto, che manda in bambola più di una volta a Brighi, si tramita in un assiste vincente per la corrente Rapisarda, Scotti è strepitoso, compiendo un salvataggio incredibile sulla linea di porta, ben tornato a San Francesco. Ma Russotto, come detto, è davvero devastante, da un'altra sua discesa, nasce un parapiglio in area di rigore, con Rapisarda, che consegna il pallone a porta sguarnita, nell'unico angolo al di fuori, dove era posto Francesco Scotti. A 29esimo, il gol per gli ospiti sembra cosa fatta, ma il colpo di testa di Fessore viene sventato, con un tuffo degno di nota, ad opera di Scotti. Al 33esimo, la frittata è fatta, l'ex Modena stanco smarca con un tacco delizioso, Ilari premiando il suo inserimento, botta secca da parte dell'ex Sant'Arcangelo per l'1-1 meritato. In chiusura di tempo, Rocchi dalla distanza alza la mira, Palma dall'altra parte imita il collega, mentre nella ripresa Rimini mette la quinta, Guiebre porta avanti il pallone, calciando direttamente in porta, ma trova solo gli applausi dei sostenitori di casa, mentre Candido non si fa pregare quando trova angolo e spazio per il suo passo, Sala risponde presente. I gol è nell'aria, Guiebre con una sola chiamala rispinta in tuffo Sala, Petrone azzeca questo punto i cambi, e Volpe tenuto in ghiaccio, una volta entrato, non perdona, raccogliendo di testa l'assist dei Bandini per il 2-1 e il 7-100 di stagione, con tanto di esultanza finale per l'ex Frosinone. Ma se di neo entrati si palla, di massimo all'occasionissima per il pareggio, Scotti si mostra in serata di grazia e respinge anche questa. E quando la stanchezza s'umbentra, ecco che Montanari, tra i migliori dei suoi, ruba palla ad Ilari, venendo stesso ingenuamente da Miceli, calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Candido, che trova la terza marcatura in stagione per il 3-1 definitivo, che sa di benedizione di Santa Pasqua e di un ritorno al successo che mancava da metà febbraio. Tra l'altro sempre di sabato si ranné la sfida interna vinta al Neri contro Limolese. Tre punti che sanno di ossigeno, Rimini che ora entra nei play-out, superato il Fano, ma domenica prossima, infocato come non mai risulterà i derby dell'ora 18.30 a Pesaro, in paio punti salvezza che valgono onore, visto che un derby è possibile in prisa salvezza. Le pagelle. Per il primo tempo eseguito, Russotto è davvero devastante, Brighi perde la bussola più di una volta, mentre Ilari, come del resto di compagno, si ferma ai soli 45 minuti di gioco. Per il Rimini tra i pali un super scotti, a centrocampo Montanari è davvero dappertutto, ma per una volta premiamo la prova di squadra, dando gli auguri ai ragazzi in campo e anche al presidente Biancorosso, che in tribuna stampa reca gli auguri a tutti i giornalisti, tranne a qualcuno. Stile ed eleganza la fanno davvero da padrona, d'altronde al peggio non c'è mai fine. In compenso ci riempiamo di dolcezza mangiando alla sua salute l'uovo donato gentilmente dal club.